Il mio corpo, invitiamo tutti, tutti quanti, quelli che stanno sfruttando il treno, ad approfittarvi, a venire qua con noi e a far vedere che siamo tutti insieme qua a dimenticare una mobilità libera, una mobilità genia che non passi attraverso che è un'alta velocità, che non passi attraverso l'eliminazione delle tratte lunghe percorrenza che non passi attraverso l'eliminazione di quelle tratte così nette poco renditifiche solo perché attraversate da pentolari e non da persone che possono permettersi di spendere centinaia di euro per usare terri come prezziarossa. Siamo qua per dire che la mobilità deve essere accessibile a tutti e non un privilegio di un'elite di pochi. Siamo qua per chiedere che tra l'Italia lo smetta con queste politiche che è in perfetta linea con tutto quello che sta attuando il governo Mondi, non vado che colpire quella classe, quel centro che non ha la possibilità di poter spendere. Siamo qua per urlare che la mobilità deve essere un diritto di tutti, che deve essere accessibile, che deve essere libera, che deve essere degna. Non si può aggaiare stipati come bestie, sopregli, troppo piccoli, per quelle persone che le attraversano continuamente per ritarsi sui luoghi di lavoro, per ritarsi sui luoghi di studio.